Ciao ragazze, allora come avevo annunciato a qualcuna di voi che mi ha chiesto su facebook e sul tubo chi aveva vinto del giveaway, era stata sfortunata perché non aveva vinto eccetera eccetera c'era in programma una sorpresa per voi e come potete leggere dal titolo vinci la My Beauty Box di novembre infatti c'è in palio la My Beauty Box di novembre quella che vi ho mostrato io con i prodotti per la skin care e la cura del corpo anticellulite vi faccio vedere ancora una volta per chi non ha visto il video oppure anzi vi linko qui il video della My Beauty Box dove insomma ci vi faccio vedere tutti i prodotti che trovate velocemente ve li prendo allora ci sono due creme cellulite fibrosa c'è ci sono due fitomaschera fitomaschera all'alga spirulina sono due maschere viso due creme per il viso idratanti per dopo la maschera e prima della maschera ci sono due creme peeling vegetali e per abbinare insomma la crema cellulite fibrosa ci sono due di queste confezioni qui che sono da non lo dice quanti ml sono comunque sono da applicare prima della crema per cellulite tutto quello che dovete fare è essere iscritte iscritte al mio canale lasciare 5 commenti massimo di 5 commenti e la vincitrice non so se verrà estratta con con random oppure oppure no anche perché vedendo insomma quello che è successo il di beve scorso non so se sceglierò il commento più più carino quello che mi piace di più oppure lo farò scegliere lo farò scegliere a random quindi vi consiglio comunque di scrivere qualcosa di sensato cosa ne pensate magari di un prodotto qualcosa che volete dire a me non lo so una cosa sensata non tipo buona fortuna a me viva random eccetera eccetera una roba sensata anche perché così se vado a scegliere il commento che mi piace di più io avete più probabilità di vincere insomma e vi ricordo che la my beauty box vi sarà spedita dall'azienda stessa quindi io dovrò contattare l'azienda a fornire i vostri dati personali e loro ve la spediranno la data di scadenza insomma del giveaway la trovate insomma sul titolo praticamente lo faccio finire un po' prima perché l'azienda mi ha dato tempo fino al 18 dicembre però non mi aveva assicurato che vi arrivava la box per fine dicembre quindi per evitare questo che magari sapete ci sono le feste comunque natalizie i corrieri magari non fanno consegne eccetera eccetera lo faccio finire un po' prima così avete la possibilità di ricevere la box a casa per insomma le feste e così potete provare tutti questi tutti questi prodotti qui insomma e niente ragazze vi avevo promesso una sorpresa per tutte le ragazze insomma che mi hanno scritto che loro non vincono mai io gli ho scritto io gli ho risposto non vi preoccupate perché ci sarà una sorpresa per voi ed è la my beauty box quindi niente ragazze io vi mando un porto e bacio il massimo di 5 commenti me li lasciate qui sotto che vinca la più fortunata oppure il commento più bello ciao ragazze